Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio, traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla statale 3 Bis Tiberina per lavori chiuso al traffico il tratto di carreggiata nei comuni di Pieve Santo Stefano e San Sepolcro in direzione Orte. A Firenze per lavori all'illuminazione. In Lungarno, Soderini, Guicciardini, restringimenti di carreggiata e chiusura del marciapiede a tratti. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!